Il testo che c'è adesso non me l'ha aspettato, si parla di Lorena Garcia, fate un applauso alla vostra segnante grazie a me per la danza mentale, e stasera fare l'idea un testo è una danza pronunciata da Gawasi, 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 che recita l'esiziano, unito con un piccolo brano di percursione tradizionale quindi, vorrei fare un gravissimo dato che le c'è un applauso alla vostra maestra Lorena Garcia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti